Ci sarà anche il campione delle quattro ruote gelese Gianni Carfi tra i tornanti della Monte Iblei. Lo start è fissato per domenica prossima. La gara è valida per il trofeo italiano velocità montagna sud e per il campionato siciliano automoderne storiche. Dall'abitacolo della sua monoposto Tatus Renault 2000, Carfi tornerà a Chiaramonte e Gulfi da campione nazionale di categoria. Torno da campione nella mia categoria alla Monte Iblei con la consapevolezza di avere già le capacità e le virtù per affrontare al meglio i tornanti del bellissimo tracciato della Monte Iblei. Nel 2020 Carfi infatti era stato premiato a Monza in una due giorni promossa dall'ACTIM Italia. Domenica scorsa, dopo una pausa sui kart, è tornato nel cockpit della sua Tatus messa alla frusta al cartodromo Sole Luna di Vittoria proprio in vista della gara inaugurale del campionato italiano velocità montagna. Tra i tornanti di Vittoria sono andato a cercare il miglior feeling fra me e la mia monoposto. Dopo le modifiche apportate durante l'inverno sto cercando di capire al massimo quale possono essere le sue potenzialità. La manifestazione motoristica è promossa dal comune di Chiaramonte e Gulfi ed organizzata dalla Promoter Chinisia. Il campione gelese delle due e quattro ruote non nasconde il suo obiettivo di scolpire il suo nome tra i primi dieci della classifica assoluta in quella che considera la gara di casa. La gara io la affronto con una capacità unica, è la più vicina a casa mia, quindi la considero la gara di casa. Cercherò di portare in gambo tutto il mio agonismo e la mia grinda per cercare di inserirmi all'interno dei primi dieci della classifica assoluta.